8 gol subiti nelle ultime tre partite, decisamente troppi l'imperativo è ricompattarsi soprattutto, ritrovare la necessaria solidità. Intanto fumata bianca per il centrale mancino slovacco Ivan Masic, classe 2001, operazione a titolo definitivo. Accordo totale col Nord Sieland, club danese a cui il Pescara riconoscerà il 50% sulla rivendita futura del calciatore. Contratto sino al 30 giugno 2025 con opzioni a favore del Delfino per l'anno successivo. Lunedì prossimo posticipo casalingo col Tarantore 20.30. Brosco ha saltato la seduta battutina causa influenza in grossa scalpita, ultima da titolare col Cerignola lo scorso 22 ottobre. Quindi 4 minuti contro la Juve Stabia e ben 5 panchine senza mai entrare in campo. A centrocampo assente Mora per la squalifica dovrebbero giocare Jabua, Palmiero e Craia. Davanti contro una squadra che presumibilmente si chiuderà a Riccio saranno importanti se non fondamentali i duelli. E allora verosimile l'impiego sugli esterni di De Sogus e di uno tra Colai e delle Monache. In tal caso Cuppone partirebbe dalla panchina. Fuori casa il trend del Taranto è disastroso. Un solo punto e ben sette sconfette. Lontano dal pubblico amico i Rosso Blu hanno realizzato appena tre gol addirittura 19 le reti subite. Guai però a sottovalutare l'undici di Capuano che ha fatto soffrire la vicecapolista Crotone, sfiorando in pieno recupero la vittoria. Parata di Dini in uscita su Capitana Ferrara e salvataggio sulla linea di Golemic. Squadra dal cartellino facile. Ben 60 sono stati finora i gialli collezionati dai pugliesi. Quarto peggiore attacco, 14 reti dopo Messina 13, Juve Stabia e Gelbison 12. Seconda peggiore difesa. 27 gol subiti come il Messina, leggermente meglio della Turrisi che ha incassato una rete in più, 28. Certe le defezioni di Antonio Romano, causa squalifica, e dell'attaccante Montenegrino Rajcevic a causa della rottura del tendine d'Achille. In forte dubbio Diaby. Curiosità, l'attuale allenatore in seconda del Pescara Giuseppe Padovano è stato vice di Ezio Lino Capuano per tanti anni.